Una donna è stata in visita dal treno nella martinata di lunedì 16 gennaio, poco dopo le 9, ad un paio di chilometri dalla stazione di Bosco Nero in direzione San Benigno Canavese, all'altezza di via Teresa Belloc. Il treno POP 2606 per Rivarolo si è prontamente fermato, ma purtroppo troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano, la croce rossa di Chivasso, i carabinieri di Volpiano e Chivasso, l'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco e la Polfer. Inutili tentativi di reanimare la donna, sono in corso gli accertamenti sull'accaduto. Con tutte le probabilità si è trattato di un gesto in consulto. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro convoglio. Siamo stati trasbordati su un'altra, sono stati trasbordati su un'altra, presto. Alla prossima! Grazie.